Dal tripudio per la prima storica Serie B al culmine di un campionato strepitoso che ha mandato in estasi una intera città ad un'estate da incubo, vissuta sul filo dei nervi, delle tensioni, per un'inchiesta sportiva che ha scippato l'agoniato traguardo raggiunto ad un gruppo che sul campo lo aveva pienamente meritato. Il 2015 resterà per sempre negli annali della Teramo Calcio, un anno incredibile dove è successo tutto il contrario di tutto. Quel che resta ai Biancorossi ora è una stagione di Lega Pro disputata tra le macerie di una B che in tanti dei calciatori che sono rimasti pensavano di meritare ma che è rimasta un miraggio, una stagione giocata con quel tarlo in testa che non va più via, più che un tarlo, un macigno, una proprietà anche lei fiaccata da questa vicenda che sembra aver smarrito la via maestra con una progettualità probabilmente da ridefinire. Dal sogno all'incubo, 24 risultati utili consecutivi, un gioco scintillante, nobilitato da due attaccanti straripanti nella qualità e nei numeri, uno stadio Bonolis che ha riscritto di partita in partita nuovi record di presenze per un pubblico mai così caldo e numeroso, la spedizione dei Mille di Savona di quel 2 maggio che ha fatto piangere tanti per la gioia, un mese sportivamente da favola aspettando la cadetteria finché quelle lacrime di gioia si sono trasformate in lacrime di sgomento da quel 10 giugno quando il mondo si è rovesciato. Da fine agosto il verdetto sostanzialmente inappellabile col Teramo sballottato prima in Serie D, poi in Lega Pro per un verdetto che ancora continua ad avere dei lati oscuri perché è vero che due persone cruciali nelle vicende della Teramo Calcio, il numero 1, Luciano Campitelli, il presidente e la mente che ha assemblato un gruppo fantastico e che lo ha fatto per anni, Marcello Di Giuseppe, l'allora direttore sportivo, hanno riportato delle pesanti inibizioni e multe. Errori evidentemente ne sono stati commessi, eppure allo stato attuale dei fatti non si conoscono giocatori di quel Savona responsabili di illecito. Per coerenza il nostro auspicio è che questi giocatori, se ci sono, rispondano davanti agli organi di giustizia sportiva. Forse sarà anche più facile per molti giocatori e tifosi accettare un verdetto che ancora non viene del tutto digerito, perché poi se non dovessero esserci questi calciatori responsabili di illecito e i 75 punti contro i 71 della seconda classificata dovessero essere veri e pieni, il verdetto saprebbe di più di beffa, cioè una condanna per una partita vera. Chiusa la parentesi, è evidente ora che per il Teramo il mercato di gennaio sarà decisivo per correggere i tanti errori commessi a settembre, ma la fretta e lo stordimento post verdetto hanno giocato brutti scherzi. La squadra dovrà riprendersi subito, restare nelle zone basse, troppo a lungo sarebbe solo che deleterio. Il 2016 dovrà essere un anno di rinascita dalle ceneri degli ultimi mesi.